Risposte certe, tempi e soprattutto le modalità con cui si intende agire per non creare ulteriori disagi ai cittadini. Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Teramo, Fabio Berardini, non è soddisfatto di come si siano svolti la scorsa settimana i lavori in commissione quando si è discusso, insieme alle ferrovie dello Stato, il progetto per l'eliminazione dei quattro passaggi a livello a Villa Pavone. Questa mattina, durante il Consiglio Comunale, torna all'attacco. Noi abbiamo chiesto, ed è stato chiesto da più parti anche in sede di commissione consigliare, se sono stati valutati anche dei progetti meno dispendiosi, perché comunque sono sempre soldi pubblici. È stato risposto che non c'erano altri progetti, invece l'architetto Falasca ha comunque confermato che erano state presentate in passato delle ipotesi meno dispendiose, poiché questo progetto costerebbe alla collettività comunque circa 6 milioni di euro. Inoltre, il sindaco ha sempre sostenuto che la città di Teramo deve essere una città del pedone della bicicletta, in quest'opera non viene minimamente conteggiato un passaggio ciclopedonale. Ecco, questa è una situazione che va verificata in quanto delle persone che vogliono andare a trovare dei propri cari magari al cimitero di Cartecchio, in bicicletta con questo progetto non lo potrebbero fare. Nessuna risposta concreta è stata data riguardo all'organizzazione del traffico veicolare su come verrà deviato. Ecco, loro tendono a scaricare tutto sulla ditta che dovrà eseguire il lavoro senza prendersi alcuna responsabilità di dare delle indicazioni chiare su come verrà deviato il traffico e su come arrecare il minor disagio possibile ai cittadini interessati della zona.